un porco mio un porco mio ho scelto quella boss il freno dietro è inesistente io l'unica cosa buona che ho sono i freni ah tipo? ho fatto un errore a prendere questa guarda i miei manubri ah c'ho il 21 che carburatore hai? il 19 un po' più bassi io città un po' più vicino allora mi ricordo che faccio tutti con le gomme fritte un po' più bassi un po' più bassi Grazie a tutti. 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 Wow! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.